Un saluto come state ben ritrovati, vi invito come sempre a scrivervi sul logo AL, lasciate un bel like e commentate qui sotto, parliamo di Milan, di Mercato Milan con un retroscena importante, sapete che a gennaio il Milan ha provato seriamente a prendere Zaniolo, non ci è riuscito, Zaniolo poi alla fine è andato al Galatasaray, lui è un innamoramento calcistico di Maldini e di Massara, giustificato oppure no, poi ognuno dal proprio punto di vista io non stravedo sinceramente per Zaniolo, ma sicuramente il Milan sulla destra ha bisogno di un upgrade rispetto a Salemakers e rispetto anche a Messias, detto che Zaniolo in termini realizzativi negli ultimi anni ha deluso, complice anche ai problemi fisici che sembra aver lasciato alle spalle, a me non comincio anche con un profilo caratteriale, però retroscena notizia è questa, che Maldini quando Zaniolo è andato al Galatasaray ha mandato un messaggino sullo smartphone di Zaniolo facendolo in bocca al lupo e facendo capire insomma che quello che non è riuscito a fare a gennaio avrebbe potuto, o meglio proverà a farlo in estate, Zaniolo tra l'altro ha una clausola recissoria che lui ha voluto proprio come ex strategi da 35 milioni di euro in estate, cifra che oggi sembra alta rispetto al suo valore. Vedremo come andrà in Turchia e poi bisognerà capire poi le sue intenzioni se vorrà rimanere lì o se forzerà la mano per andare via. Sembra tanto una meta di passaggio per il ritorno in Italia con Maldini che ha promesso a Zaniolo sostanzialmente che in estate tornerà alla carica per provare a prenderlo. Mi sembra non con il prezzo della clausola, trattando probabilmente lui sarà a bilancio a una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, a quella cifra Milan potrebbe arrivare a maggior ragione se partirà le A o il Milan dovrà cambiare pelle un po' rispetto a un attacco che cambierà anche di interpreti. Il messaggio comunque è chiaro, ci risentiamo in estate, significativo da parte di Paolo Maldini a Niccolò Zaniolo. Che ne pensate? Vi piace? Vi convince? Secondo me vale la pena puntarci a cifre giuste, non ho la certezza che possa fare bene. Iscrivetevi su Logo L, lasciate un like e commentate qui sotto con il vostro punto di vista. Ciao a tutti!